Ciao a tutti ragazzi, oggi è il nostro nuovo video, oggi sarà un bel vlog al cinema, oggi siamo qui da Kelly, Kevin, oggi è la mamma di Kevin, è il nostro autistico, il nostro taxi. Ecco, oggi andiamo a vedere il locale Zootropolis, adesso andremo a casa di Stefano, che viene anche lui, si va bene, Giorno anche me in quattro, ecco, questa è la nostra macchina, mamma mia, questa è pagata mille euro, eccoci, 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 la gialla, questo egg, e questo cantiere, stavo facendo dei lavori da due anni, Kevin, che cos'è quello? È un vlog adesivo, dietro quando toccavo qualcosa, dovevo pensato che Kevin, sempre elettricità, sì, quando John, quando gli ho sentato un carro, prende sempre la scorsa, adesso, prima stavo giocando a Dragon Ball, dove sono arrivato? Aspetta, eri arrivato? No, ho fatto qualche scontro, quando me ne sono andato, comunque eri arrivato al capitolo dove c'era il Digno, che ha studiato il corpo con Goku, sono arrivato a Prisa, la terza trasformazione, com'è? Come un alieno, come, sei, alien, scusate, come quella, è così, come quella, mamma mia, Stefano, eccolo, sta facendo un vlog, eccoci, ciao, 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 ciao non ci butto dalla finestra beh no, finestrino ieri ero indeciso se è andata a dormire o andata a correre non ho trovato il compromesso, sono andata a dormire di coppa che bello io stavo sognando a dog che stavano correndo con le mutande io sognato che stavo facendo un vlog Kevin! Kevin! hai visto? stavo facendo il video oggi? yeee! si vi quantifichiamo la data di oggi? si, oggi è oggi è il... 44.09.1943 oggi è il 6 di marzo il 6.943 il 2016 il nuovo futuro Kevin il 1943 non è il futuro il futuro di sorbolo secondo me ci saranno le macchine che... questo posto non ci sarà ma ci sarà la cacca di Kevin eh si, si ci sarà la cacca di Kevin si perchè sono il suo swag non lo sai su ha l'inchiato Kevin no 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 il tuo posto è il suo e cheee guarda 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 no 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 vuoi fare in piedi cosa andiamo a vedere devo stappi devo stappi sei qui un gioco concetto che è Brian di Dragon Ball Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti